Ci troviamo in località Persano, esattamente sulla strada provinciale numero 317. Molti telespettatori ci hanno segnalato le pessime condizioni di questo manto stradale. Buche e cedimenti infatti stanno rendendo quasi impossibile la percorrenza di questo tratto di strada. Molto importante per Giunta, soprattutto nel periodo estivo, quando i turisti per evitare il traffico della statale 18 si riversano in questa zona. È ormai da anni che si attendono i lavori di ripristino, ma in realtà non c'è stato mai un intervento risolutivo. E noi abbiamo chiesto maggiori spiegazioni all'assessore provinciale a lavori pubblici Marcello Feola. Io il problema lo conosco, sia perché sono stato sollecitato già proprio dalla redazione, sia perché transito spesso in quell'area, quindi personalmente conosco il problema. Noi abbiamo realizzato una progettualità di messa a regime di quella strada che peraltro funce anche, non solo serve i territori di Altavilla, Albanella, eccetera, ma funce anche da alternativa alla statale 18 nel periodo estivo soprattutto. Credo che qualche intervento lo faremo, certo se avremo maggiore risorse probabilmente riusciremo ad intervenire in modo più massiccio.